Allora, noi oggi stiamo insieme perché come ben potete vedere, visto anche dietro le nostre spalle, Franco ci sta proprio il simbolo dell'album. Me lo spieghi? È il tuo profilo, giusto? Sì, è il mio profilo fattomi da Salvatore Architravo, che poi sarebbe un ragazzo che lavora per me e per le mie pagine su Facebook, Instagram, eccetera, che poi è il figlio della figlia di mio fratello Mario Trevi, cioè sarebbe il mio pronipote. Oh, ma che bella cosa, un po' come noi di Bella Radio, tutto in famiglia, mi piace questa cosa, Franco è anche lui una persona che tiene tantissima la famiglia. Sì, assolutamente, la famiglia è unica, è bella.